Biagio Vigna ci ha messo subito la faccia. Non ha voluto nascondere il suo volto, ha vinto un milione di euro alla lotteria Italia e ha regalato la sua vincita alla figlia. A Pinerolo è ormai famosissimo, tutti i tigi hanno parlato di questo fortunato che non ha scelto, come fanno in tanti, la riservatezza subito dopo il colpo alla lotteria. Dopo l'entusiasmo inziale finito al pronto soccorso, Vigna parla della sua odissea per incassare la vincita. Per adesso stiamo solo affrontando spese. Oltre 500 euro sono state pagate a un'azienda di trasporto valori per portare il biglietto da Pinerolo a Roma, nella sede di chi ci deve pagare, spiega Repubblica, ma le spese, a suo dire non sono finite qui e Vigna ferma. Allo sportello ci hanno spiegato che avremmo dovuto portarlo a Roma noi, ma ci hanno anche fatto notare che la cosa avrebbe potuto comportare il rischio di perderlo. Così ci siamo rivolti all'istituto di vigilanza privata che ha un'assicurazione per corpire anche questo tipo di eventi, ma, ripeto, sono state altre spese, speriamo, abbiamo aperto un conto corrente apposito per versarli. Altre spese, insomma. Comunque ci è stato riferito che prima di due a tre mesi non vedremo quattrini. E quando saranno arrivati mancherà quel famoso 12%, a questo punto il fortunato vincitore spiega quanto ha vinto davvero. Mia figlia Francesca è riuscita dopo molte traversie a far depositare il biglietto vincente ma ha scoperto che il milione di euro intero non lo vedremo mai. Lo Stato si prende il 12%. Perché scrivono sul biglietto un milione dovrebbero scrivere, come nel mio caso, si vincono 880.000 euro.